Sono due erpine le regine del momento in eccellenza e promozione. Nel girone C del massimo campionato regionale il Cervinare è riuscito a riconquistare la vetta approfittando del pareggio tra Ebolitana e Nola e vincendo nel derby tutto erpino contro il Solofra. Gli uomini di Pasquale Ferraro ritornano sul trono anche se per il momento devono dividerlo con l'Ebolitana. In caduta libera il Sant'Omaso di Mario Silvestro che ancora deve trovare la vittoria in campionato. I grifoni pareggiano anche in casa del Sant'Agnello anche se qualche segnale di ripresa si è visto. Nel prossimo turno il Cervinare sarà ospite del Faiano mentre il Solofra ospiterà l'altra capolista ebolitana. Il Sant'Omaso invece cercherà riscatto definitivo in casa contro la Rinascita Vico. In promozione straripa il fiume Virtus, la formazione di Rino Criscitiello approfittando del turno di riposo dell'Accadia conquista il Primato confermandosi a punteggio pieno. Vince anche l'Egranese che al bello fatto di Baiano esce vittoriosa con il punteggio di 4-1 contro i Granata allenati da Sgambati. Mantengono il passo anche Artemisum e Miscano vittoriosi rispettivamente contro Montella e San Martino. Passo falso del Serino che perde in maniera larga contro il Grotta con il punteggio di 5-0. Nel prossimo turno riposerà il Grotta mentre saranno due i big match di giornata con l'Eclanese che ospiterà lo Sporting HD ed il Serino che ospiterà il Comprensorio Miscano. La capolista Virtus invece sarà ospita al Russo di Paolisi con i giallorossi padroni di casa che cercheranno il riscatto dopo la brutta parentesi scritta sabato a Rocca di Avellino.